Per me è un grande piacere introdurre la professoressa Manni e dopo tanta scienza un po' di la lingua di Leonardo. La professoressa Paola Manni è ordinario dell'Università di Firenze ed è membro dell'Accademia della Crusca di cui è stata anche vicepresidente, è membro dell'Accademia Ambrosiana di Milano e della Commissione per l'edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo. Allieva del grande storico della lingua Enrico Castellani del quale ha proseguito con successo le indagini linguistiche e gli studi sugli antichi testi toscani. Non è facile raccontare brevemente tutte le pubblicazioni della professoressa Manni precisamente per me che sono un biologo medico e quindi sarò costretto a leggere. Vorrei ricordare però alcuni dei suoi contributi sul fiorentino di epoca tardo medievale sugli antichi testi epistoiesi, sulla lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio, su Policarpo Petrocchi, sulla lingua della finanza e del commercio, sulla matematica in volgare nel Medioevo, sul lessico galileiano, sul deprospettiva pingendi di Piero della Francesca. È responsabile del vocabolario dantesco, nuova iniziativa varata dall'Accademia della Crusca in collaborazione con il CNR. Paolo Manni ha studiato l'evoluzione dei linguaggi tecnico-scientifici in epoca medievale rinascimentale. In questo settore ha scritto studi pionieristici che hanno aperto la strada per un'analisi dei testi di Leonardo sulla base dell'esame linguistico dei testi. Tra i suoi numerosi contributi ne cito alcuni. La lettura vinciana, percorsi nella lingua di Leonardo, grafie, forme e parole. Il glossario leonardiano, nomenclatura delle macchine nei codici di Madrid e Atlantico. una serie di saggi dedicati alla terminologia tecnico-scientifica di Leonardo, con particolare riguardo alla meccanica e all'anatomia. E infine gli studi dedicati all'analisi dei testi sotto i diversi aspetti della lingua, dalla grafia alla sintassi. Oggi ci intratterà appunto su questo argomento e ci parlerà di scrivere della macchina umana, tradizioni e innovazioni nel lessico anatomico di Leonardo. Ringrazio molto il professor Stefanini per questa bella e gentile e generosa presentazione e ringrazio anche gli organizzatori del convegno per aver voluto che sia rappresentato qui anche il punto di vista linguistico. Mi dicono che ringraziamenti si sono sentiti e questo mi fa piacere. O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione la intera figurazione qual fa qui il disegno? Con quali lettere descriverai questo core che tu non empia un libro? E quanto più lungamente scriverai alla minuta, tanto più confonderai la mente dell'auditore e sempre harai bisogno disponitori o di ritornare all'esperienza, la quale in voi è brevissima e dà notizia di poche cose rispetto al tutto del subietto di che desideri integrale notizia. Con queste insistenti domande, famosissime e infatti già proposte anche dal precedente, alla vostra attenzione dal precedente relatore, Leonardo esalta il disegno al quale riconosce nell'ambito della trattazione anatomica una funzione comunicativa assolutamente superiore a quella della parola. Le due frasi inserite in un discorso di più ampio respiro, connesso alla riflessione sul paragone delle arti sviluppata nel trattato di pittura, si leggono nel foglio 162 recto del corpus degli studi anatomici, che gioverà rivedere, anche questo l'abbiamo da poco visto, riprodotto nella sua interezza. Come si può notare, esse sono inserite nella fittissima trama delle annotazioni, che da ogni lato incorniciano il disegno del cuore e dei suoi vasi sanguigni, addossandosi al disegno stesso senza però intaccarlo nella sua squisita nitidezza e dilatandosi poi verso l'esterno fino a invadere i margini della carta. La visione del foglio potrebbe anche indurre il sospetto che questa dichiarazione di impotenza, del descrivere, affidata all'enfasi di due interrogative dirette, sia quasi un topos, una preterizione dell'artista, che a quest'altezza cronologica possiede, fra le sue risorse espressive, anche una buona strumentazione retorica. Ma Leonardo esprime qui una verità, profondamente sentita, che ribadisce più volte nei fogli di Windsor. Ad esempio, nel foglio 144 R, laddove i due verbi descrivere e figurare sono stretti in un binomio inscindibile, inserito però, ancora una volta, in un contesto che ne sbilancia l'equilibrio a favore del secondo elemento. E tu che vogli con parole dimostrare la figura dell'uomo con tutti gli aspetti della sua membrificazione, removi d'acco tale opinione, perché quanto più minutamente descriverai, tanto più confonderai la mente del lettore e più lo rimuoverai dalla cognizione della cosa descritta. Adunque è necessario figurare e descrivere. In questo caso, l'annotazione si trova all'inizio di un foglio, ritenuto fra i più ricchi di contenuto e certo anche fra quelli che con maggiore impatto mostrano come la dominante sequenza dei disegni, sedilati nella pagina, accompagnata dal corredo docile e subalterno, ma pure necessario, delle annotazioni a margine. Le indagini di Carlo Vecce e Paola Salvi hanno peraltro dimostrato come nel complesso dei fogli anatomici la dialettica fra i due poli del descrivere e del figurare subisca un'evoluzione nel tempo. Ben evidente se si confrontano i due indici del progettato libro sul corpo umano che si leggono rispettivamente nei fogli 81V e 154R. Il primo risalente al 1489, precoce quindi, il secondo agli anni 1509-1510, quando gli studi anatomici sono al loro culmine. Anche attraverso il rapporto numerico fra le occorrenze dei due verbi si può vedere come il descrivere, che insistentemente scandiva i punti del programma più antico, lascia il posto al figurare che di fatto porterà il disegno a divenire il fulcro dell'approccio leonardiano al corpo umano, innovando in modo decisivo il paradigma tradizionale del trattato medico anatomico. Ma sarà utile anche ricordare che tutta l'immensa opera depositata negli autografi leonardiani nasce nel solco di un rapporto simbiotico e imprescindibile fra il testo verbale e l'immagine, un rapporto che opportunamente viene additato come uno dei caratteri fondanti della testualità di Leonardo, così particolare e irriducibile a qualsiasi definizione di genere. È un carattere davvero essenziale che affonda le radici nella formazione dell'artista, nel suo primo addestramento alla scrittura, che se anche prende avvio, come oggi si ritiene, avvinci entro la cerchia parentale, sicuramente inizia a sperimentarsi come mezzo comunicativo in quegli ambienti artigianali fiorentini, in cui si compie il suo percorso educativo fondato sull'abbaco e l'apprendistato. Primi modelli librari di riferimento, quindi, i libri d'abbaco, che peraltro figurano come una presenza costante fra i titoli della sua biblioteca, e i libri di bottega, generi contraddistinti entrambi dall'uso della grafia mercantesca, che sarà poi la grafia adottata da Leonardo e a cui rimarrà fedele per tutta la vita, e generi ispirati a una testualità tutta aderente alle cose, che trovava nel disegno il mezzo indispensabile per una comunicazione chiara ed efficace. Già nelle carte più antiche del Codice Atlantico, vergate da un Leonardo non ancora trentenne, scarne frammentari annotazioni di carattere tecnico, si associano a disegni di fattura non meno incerta e approssimativa. E di quanto in seguito maturi la capacità leonardiana nel descrivere e nel figurare, e di quanto prodigiosamente si accresca la sapienza nel calibrare i due linguaggi in una ponderata e mirabile sintesi, credo che possiamo trovare, credo che non possiamo trovare prova più eclatante di quella offerta dal primo Codice di Madrid, scritto a Milano, nell'ultimo decennio del Quattrocento, che ci restituisce la fase di elaborazione più avanzata di un progettato libro sugli elementi macchinali. La trattazione delle leggi della meccanica, portata ai massimi livelli teorici e gli eccezionali progressi raggiunti nelle tecniche di raffigurazione, consentono a Leonardo di realizzare un approccio allo studio delle macchine del tutto nuovo. L'analisi tradizionale delle macchine, come entità ognuna indivisibile e ripetibile, lascia il posto a un'indagine che punta a isolare i meccanismi dalla variata combinazione dei quali scaturiscono i diversi dispositivi. Il disegno, che istruisce e guida l'indagine, facendosi strumento attivo della riflessione teorica, analizza i singoli organi, li scompone e ricompone, li isola e osserva da visuali diverse, ne suggerisce rapporti dinamici, mentre il testo verbale si struttura in equilibrate annotazioni dall'andamento rigoroso, asciutto, funzionale, nelle quali, credo vadano riconosciuti più di quanto si è finora fatto, i prodromi di una moderna prosa scientifica. Non è fatto di poco conto che a cementare l'integrazione fra disegni e testo, testo verbale, intervenga l'uso ampio e sistematico delle lettere dell'alfabeto e dei numeri, espediente a cui la trattatistica scientifica è oggi del tutto a sue fatta e di cui Leonardo per primo offre un'applicazione consapevole e sistematica. Anche la semplice visione di alcune di queste carte del Codice di Madrid, nella loro perfetta calibratura fra testo verbale e disegno, non lascia dubbi sul fatto che il primo codice madrileno ci pone di fronte alla più meditata e direi anche pacifica sintesi fra il descrivere e il figurare raggiunta negli autografi vinciani. E' dopo questa prova che varcata la soglia del Cinquecento, Leonardo si applica con decisione e continuità allo studio del corpo umano e riprende il progetto di un atlante, oggi diremo così, dedicato alla macchina del corpo umano. Macchina del corpo umano. È Leonardo stesso che usa questa metafora e risulta che nell'ambito della lingua italiana sia il primo ad usarla. Questo ce lo dicono, purtroppo non ce lo dicono i dizionari storici che datano questa metafora un secolo dopo, però sicuramente il confronto con questi ci dice che Leonardo li anticipa. Nel foglio 179, databile al 1513, così Leonardo si rivolge al lettore, invitandolo a superare le sue preoccupazioni morali nei confronti della pratica anatomica. O speculatore di questa nostra macchina, non ti contristare perché con l'altrui morte tu ne dia notizia, ma rallegrati che il nostro autore abbia fermo lo intelletto a tale eccellenza di strumento. Questo solenne invito suggella una carta che peraltro è emblematica di come il disegno stesso possa talora intervenire a trasfigurare il dato osservativo, allo scopo di enfatizzare l'analogia corpo-macchina. La rappresentazione dei muscoli che sostengono il collo è qui evidenziata attraverso le linee di forza dei tendini, denominati da Leonardo Corde, che li assimilano alle sartie che mantengono in posizione retta l'albero delle navi, come poi è esplicitato nel testo dove si legge, farai prima la spina del collo con le sue corde, a uso di albero della nave, con le sue costiere, di poi farai la testa con le sue corde che le danno il moto sopra il suo polo. Appare significativo anche l'aggettivo strumentale, con cui Leonardo riprecisa il progetto del libro dedicato all'anatomia umana. Libro titolato De figura umana, lo aveva chiamato alla fine degli anni Ottanta, nel foglio 40R, mentre in una nota risalente agli anni 1506-1508, foglio 81V, parla di un libro dedicato alla figura strumentale dell'uomo. Che gli studi anatomici leonardiani, nella loro fase più matura, sottintendano un legame con la scienza del moto, è del resto dichiarato in modo del tutto esplicito in quella memorabile definizione della meccanica che si legge nella terza carta retto del codice sul volo degli uccelli. La scienza strumentale, ovvero macchinale, è nobilissima e soprattutto l'altra utilissima, conciossia che, mediante quella, tutti gli corpi animati che hanno moto fanno tutte loro operazioni. Dichiarazione che anticipa di pochi anni, quanto poi ribadirà negli stessi fogli di Windsor, pensando a una ricomposizione della sua opera in un'ideale unità, Leonardo dichiara fa che il libro degli elementi macchinali, con la sua pratica, vada innanzi alla dimostrazione del moto e forza dell'uomo e altri animali. E mediante quelli tu potrai provare ogni tua proposizione. Ma il descrivere la macchina umana, come abbiamo visto, è impresa ardua, che coinvolge il mezzo linguistico in un rapporto agonistico con il disegno e la prodigiosa capacità di quest'ultimo di dare la vera notizia di quella macchina e dei suoi organi, attraverso metodi di raffigurazione straordinariamente innovativi ed efficaci, che mettono a frutto quanto già ha sperimentato nel disegno progettuale della meccanica e dell'architettura. Dunque, Leonardo, in quest'ultima stagione della vita, è chiamato ad un'ennesima battaglia con la lingua. Ed è una sfida diversa dalle tante sfide che già ha intrapreso durante la sua vita con la lingua. Non si tratta della battaglia con la lingua di cui parla Italo Calvino quando ripercorre i faticosi procedimenti di riscrittura di un Leonardo non ancora trentenne, proteso nel tentativo di catturare con l'esattezza delle parole l'immagine fantastica del mostro marino. Né si tratta della battaglia con la lingua che nasce dalla fame di vocaboli, di cui parla Maria Luisa Altieri Biagi, pioniera degli studi sulla lingua leonardiana, quella fame di vocaboli che porta l'artista negli anni milanesi a accumulare nelle carte del codice tribulziano riserve di parole. La battaglia con la lingua, ingaggiata nei fogli di Windsor, chiama in causa la lingua nella sua concezione più alta e castratta, la lingua in quanto istituto linguistico, codice linguistico. È una battaglia ultima e suprema che impegna Leonardo nella piena maturità, quando ormai le sue risorse espressive si sono intensamente e consapevolmente corroborate. A chiedersi con quali lettere descriverai questo cuore. È l'uomo che vent'anni prima si era definito sanza lettere, ma che ora, dopo un lungo e faticoso percorso autoeducativo, ha sopperito a quella mancanza e ha recuperato almeno in parte quelle componenti di natura adotta che la sua prima educazione gli aveva negato. Solo tenendo conto di questo, si capisce come le medesime carte di Windsor, insieme a tante conclamate ammissioni di impotenza del codice verbale rispetto al disegno, possano offrirci anche quella famosissima affermazione di gratitudine verso la lingua materna, che come si vede, si deposita, quasi surrettiziamente nel foglio 178R a margine di una fitta colonna di testo, che si vede poi sulla destra, dove viene descritto con abbondanza di termini l'apparato gastrointestinale. La noticina è proprio aggiunta quando ormai ha già trascritto questa descrizione, ha già fatto questa descrizione impiegando la dovuta quantità di termini anatomici. Io ho tanti vocaboli nella mia lingua materna, che io mi ho piuttosto da doler del bene intendere le cose, che del mancamento delle parole con le quali io possa bene esprimere il concetto della mente mia. L'apparente contraddizione si supera pensando che prima Leonardo si riferiva alla lingua come istituto linguistico. Qui invece si riferisce alla lingua che si realizza nella sostanza di una determinata lingua viva e vera nella fattispecie, il riferimento chiaro è al lessico della lingua. Leonardo parla di vocaboli. Il fatto che di fronte alla complessità della macchina umana il mezzo linguistico abbia potenzialità impari rispetto al mezzo iconografico non gli impedisce di riconoscere che la sua lingua naturale, la lingua materna incarnata dal fiorentino, gli fornisce risorse lessicali, vocaboli appunto, sufficienti per esprimere tutto quello che il suo pensiero poteva concepire. Che Leonardo avesse a disposizione gran copia di parole per descrivere la macchina umana è testimoniato dal recentissimo glossario dell'anatomia, ultimo arrivato della serie dei glossari attraverso cui si va ricomponendo tassello dopo tassello come in un grande puzzle l'ingente patrimonio di lessico-tecnico-scientifico depositato negli autografi di Leonardo. Concepiti dalla lungimirante operosità del compianto romano Nanni nell'ambito dello strumento digitale e Leo realizzato dalla biblioteca leonardiana di Vinci, questi glossari escono anche in versione cartacea presso l'editore Olski. Dopo il glossario della meccanica curato da me e da Marco Biffi uscito nel 2011 e quello dell'ottica e della prospettiva allestito da Margherita Quaglino 2013 abbiamo ora, fresco di stampa come dicevo, quello dell'anatomia che si deve alle cure di Rosa Piro. I 536 lemmi accolti in quest'ultimo volume che pure non ambiscono ad essere esaustivi mostrano la straordinaria ricchezza del lessico anatomico di Leonardo in cui confluiscono le diverse tradizioni tipiche del sapere medico che alimentavano il sapere medico tardo medievale, peraltro ben rappresentate anche dai titoli dei libri che possiamo idealmente collocare sugli scaffali della sua biblioteca, dalla tradizione di livello più alto che faceva capo all'anatomia di Mondino degli Uzi, a cui Leonardo poteva accedere attraverso la traduzione italiana inclusa nel fasciculus medicinae del Ketam. A quelle opere come la chirurgia di Guido Scholiac, Guidone in cerusia la chiama Leonardo, che insieme alla chirurgia di Guglielmo da Saliceto erano state da tempo volgarizzate e si collocavano ad un livello che possiamo dire intermedio fra il sapere accademico e il livello dei cosiddetti laici, i praticanti estranei alla scienza, fino ad arrivare a prodotti ancora più divulgativi come il celebre al-Mansore derivato dal Kitab al-Mansuri di Mohamed Rasis, la cui traduzione primo-trecentesca in fiorentino, mediata dalla versione latina di Gerardo da Cremona, è considerata il primo manuale medico integrale scritto in un volgare italo-romanzo. La presenza nel glossario di una sezione dedicata alle corrispondenze ci permette di constatare in modo diretto come i termini leonardiani si inseriscano con coerenza nell'ambito della letteratura medico-anatomica precedente e coeva, già caratterizzata da un assetto terminologico fortemente composito. Domina la componente di derivazione greco-latina, legata alla cultura accademica che faceva capo a Mondino e con la quale sappiamo che Leonardo tra il 1508 e il 1511 ha modo di stabilire contatti diretti anche attraverso Marcantonio della Torre e con questa cultura alta egli mostra di essere al passo, conoscendone anche i prodotti editoriali più aggiornati. A questo proposito è interessante notare come accanto a tanti termini di origine d'otta ormai acclimatati nella produzione volgare, quali ad esempio aorta, arteria, diaframma, epiglotto, matrice, misenterio, rotula, sperma, torace, trachea. Per indicare le membrane che avvolgono il feto nell'utero compaiono i termini all'antoidea e animo, termini di tradizione galenica, privi di riscontri nei testi quattrocenteschi, compressi quelli di Mondino. I due termini compaiono invece nel Liber de Anatomia Matricis, un trattatello di embriologia incluso nel volume delle opere di Galeno stampato a Venezia nel 1502 presso l'editore suriano. È lecito quindi supporre che Leonardo abbia attinto a questa fonte latina. Come prova del resto ha anche la presenza già in essa dell'adattamento arbitrario animus in luogo del greco amneios. Il grecismo nella forma corretta amnio, che poi darà luogo anche amniotico, insomma sarà produttiva, sarà poi ripreso insieme all'antoide da Francesco Redi e quindi passerà al linguaggio medico moderno. Ancora discreta la presenza degli arabismi, comunque in regresso rispetto all'epoca trecentesca e costituiti per lo più da voci già acclimatate nella tradizione mondiniana. Essi sono talora ripresi sotto forma di prestiti come nel caso di Alcatin, perineo, Meri, che vuol dire esofago, Mirac, vuol dire pannicolo del ventre inferiore, Rasetta, articolazione della mano e anche carpo della mano, Zirbo, membrana che avvolge l'intestino. Altre volte gli arabismi vengono assimilati sotto forma di calchi, come nel caso di Duramadre, Piamadre, le due membrane, una più robusta e una più sottile che rivestono l'encefalo e come nel caso di Fucile che indica ciascuna delle due osse sia della gamba che del braccio. E questo è un calco sull'arabo Zand che voleva dire fuoco, propriamente coppia di legnetti dal cui sfregamento si ottiene la scintilla, il fuoco e l'adattamento, la ripresa dell'arabismo in questo caso è fatta con i mezzi della lingua italiana. Per cui i calchi diciamo hanno una maggiore capacità di inserirsi e di risultare e di entrare nel lessico e non è quindi un caso che appartengono a questa seconda categoria, la categoria dei calchi, gli arabismi che sono riusciti a insediarsi stabilmente nel linguaggio anatomico moderno superando il grande processo di selezione, nel riassestamento che si avrà nel seicento. Fra questi ricorderemo appunto, presenti anche in Leonardo, pia madre e dura madre. Confluiscono nel lessico leonardiano anche un gran numero di voci del tutto popolari che facilmente si mettono in risalto per i loro caratteri strutturali e per la trasparenza semantica che ne denuncia la derivazione per via analogica da un vocabolario di base di uso comune. Potremmo citare termini come corda, tendine e legamento, che era però presente anche nell'anatomia di Mondino. Gobbo, con vestità di un osso. Padella o patella, per indicare la rotula. Pesce, del braccio e della coscia. Muscolo, vuol dire muscolo. E pescino, aggettivo, detto di un muscolo dalla forma allungata. E ancora foppello, incavo del braccio, del gomito, del mento. Termine questo, di ascendenza lombarda, presumibilmente legato al settentrionale foppa, fossa, buca. Alla forte stratificazione di questo lessico si lega l'alto tasso di sinonimia, che come sappiamo in campo tecnico-scientifico è indice di inadeguatezza, denuncia una terminologia ancora in fieri, che non ha pienamente maturato quelle prerogative di coerenza e stabilità che sono necessarie alla comunicazione scientifica. Ne avrà lucidissima consapevolezza Galileo. Ma già in Leonardo si può osservare un'attenzione sempre vigile per la precisione terminologica, nell'interrotta ricerca dell'espressione più ricca e sottile e precisa. Uso qui le parole di Calvino, che, come è noto nelle lezioni americane, elesse la lingua dell'artista a emblema dell'esattezza. Del resto è Leonardo stesso, che in una nota del Codice Atlantico ci invita a non fare come quelli che, non sapendo dire una cosa per lo suo proprio vocabolo, vanno per via di circuizione e per molte lunghezze confuse. E la tensione verso l'espressione più efficace e adeguata, la ricerca del proprio vocabolo, porta Leonardo a segnalare con grande attenzione le coppie sinonimiche, rendendo conto al lettore di una variabilità che può pregiudicare la coerenza della trattazione. E sono poi molti casi in cui, dal laboratorio linguistico leonardiano, si irradiano soluzioni terminologiche nuove. Nel glossario si possono infatti notare un buon numero di vocaboli che risultano privi di precedenti attestazioni. La lessicografia storica ci insegna che in questi casi bisogna essere molto cauti, perché a garantire la novità di una parola non basta l'assenza di documentazione scritta precedente. Tuttavia, in un settore come quello dell'anatomia, che ha alle spalle una produzione relativamente ampia e consolidata, alcuni termini di prima attestazione leonardiana, spesso connessi alla novità del suo approccio, possono senz'altro essere considerati nuovi. Anche dal versante dell'anatomia si ripropone quindi la fatidica domanda. Il genio di Vinci è stato pure inventore di parole? In che misura egli è stato ideatore della propria terminologia? Certo, Leonardo anche in questo campo lasciò il segno della sua creatività, ma risulta sempre più evidente via via che si ricompongono i pezzi del suo vocabolario che egli non agì tanto da un omaturgo, nel senso miglioriniano del termine Bruno Migliorini, storico della lingua, padre della nostra disciplina, ovvero non coniò parole strutturalmente nuove, magi piuttosto sul piano della semantica, dando nuovi significati tecnici a vocaboli già esistenti e trasferendoli da un settore all'altro attraverso procedimenti di riuso e rideterminazione. Si tratta di procedimenti di transfert che hanno da sempre concorso alla formazione dei linguaggi specialistici, ma certo che in Leonardo questi procedimenti trovano un humus particolarmente fecondo, legato alla poliedricità del suo approccio alla scienza, alla prodigiosa capacità del suo vedere, al suo percepire i fenomeni e le leggi della natura all'insegna di una profonda unitarietà. Nel caso della terminologia anatomica è quindi naturale che un ruolo di spicco si debba di nuovo attribuire alla meccanica. Così, nella descrizione dell'apparato circolatorio, Leonardo parla di armadure, ovvero sostentacoli dei pannicoli, cioè dei tessuti membranosi, che rivestono il cuore. Due termini, armadura e sostentacolo, usati in ambito meccanico e anche architettonico, nel rispettivo significato di struttura di contenimento, incastellatura e supporto. E notiamo poi cardini per indicare i punti della parete aortica in cui fanno leva le cuspidi valvolari della orta. Più specificamente legato all'architettura, emiciclo, nel significato di seno aortico. Il legame con la meccanica poi si potenzia, e non ce ne stupiamo, nel campo dell'osteologia, nella descrizione dell'apparato locomotore. Qui troviamo snodatura nel senso di articolazione, forcella con riferimento al gomito, lieva e contralieva, polo e molti altri. Altro canale, attraverso cui il laboratorio linguistico leonardiano si rivela straordinariamente attivo e creativo, è dato dalle composizioni, quelle che in linguistica si chiamano formazioni polirematiche. Accade spesso che da un termine di base si originano grappoli di denominazioni analitiche, composizioni cioè formate da un sostantivo accompagnato da un altro elemento, per lo più un aggettivo, che lo ridetermina e ne specializza il significato. Basta scorrere l'indice del glossario per rendersi conto dell'altissimo numero di composizioni di questo tipo, che denunciano l'incalzante necessità di una terminologia più specializzata e il tenace impegno profuso da Leonardo nell'adattare i tanti termini troppo vaghi e generici alle necessità proprie, rendendoli un elemento attivo che concorre all'elaborarsi della riflessione teorica. Farò un solo esempio, da muscolo, sulla base di muscolo abbiamo queste formazioni che sono quasi tutte delle prime attestazioni, muscolo dilatante, muscolo tirante, muscolo longitudinale, trasversale, estrinseco e intrinseco e così via insomma. Credo di dover avviarmi alla conclusione, il materiale per fare ulteriori osservazioni sul lessico anatomico ci sarebbe. Il glossario è ricchissimo, come ho detto, e quindi è spunto di tantissime altre osservazioni sul lessico anatomico nel suo intrecciarsi fra tradizione e innovazione. Tuttavia io vorrei concludere con una riflessione che intende richiamare ad una visione più circostanziata della lingua leonardiana. Infatti se è vero che l'approfondimento dei termini sul versante lessicologico e semantico consente escursioni tanto ampie e coinvolgenti nell'universo del sapere leonardiano, anche l'analisi dei termini nelle loro componenti più minute, nella loro sostanza fonica e grammaticale intendo dire, merita attenzione. Non è un fatto trascurabile che Leonardo scriva sempre frusso in luogo di flusso e usi talora polmone invece di polmone e alterni continuamente, questo si vede in modo particolarmente evidente nei fogli di Windsor, piedi singolare accanto al normale piede. Forme come queste testimoniano il forte radicamento che per sempre legò Leonardo a quello che chiamava la sua lingua materna, che è la lingua della Firenze del tardo quattrocento e prima ancora la lingua della fanciullezza trascorsa nelle campagne di Vinci. Pur nel prodigioso potenziarsi delle sue risorse, di cui rendono conto il migliaio di termini già depositati nei tre glossari editi. La lingua di Leonardo mantenne nel tempo una fondamentale fedeltà a quel primitivo sistema linguistico, una fedeltà che si manifesta nel persistere di certi usi grafici, nella saldezza delle strutture fornomorfologiche, nell'orditura sintattica e testuale che anche nei momenti più sorvegliati riserva improvvise aperture alla spontaneità del parlato. E sono questi altrettanti campi che al lato all'affascinante tema dell'indagine sul lessico si aprono alla ricerca futura. Grazie.